Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di trappanini manuali, detti anche girapunte. Utilizzeremo delle punte molto sottili, sono delle micropunte in acciaio HSS e questi trappanini e queste punte lavorano su materiali come legno, resine, plastiche. Ecco qui vediamo una serie di punte, sono punte molto sottili, inseriamo la punta nel mandrino, la fissiamo bene e poi siamo pronti per effettuare dei fori. Un tipico utilizzo è per il modellismo navale. Anche chi crea dei gioielli, dei lavori di precisione, chi fa dei lavori di precisione, utilizza queste micropunte e questi trappanini manuali. Il video prosegue mostrando ancora l'utilizzo di questi trappanini manuali con le opportune punte. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. Grazie. 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 Grazie.